Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di un gradito ritorno molto richiesto e di un filato che è sicuramente primaverile ma anche estivo, un cotone con delle sfumature e l'aggiunta di lurex perfettamente incastonati in un effetto macramé. Analizziamo insieme quindi il nuovo LED Luxe. Vediamolo! Eccolo il nostro nuovo LED Luxe, questa fettuccia sfumata con lurex effetto macramé. La composizione è la seguente, 60% cotone, 33% poliammide e 7% fibra metallica che si presenta così in gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 130 metri. Eccolo qui il nostro effetto macramé con questi delicatissimi punti di lurex che potete vedere ecco qui nel dettaglio per il quale consigliamo l'utilizzo o dell'uncinetto 4-6 oppure dei ferri 5-7. Una volta realizzata la vostra creazione sicuramente i consigli utili sono questi. Lavaggio ad una temperatura non superiore ai 30 gradi. Non è possibile riporlo in un'asciugatrice ma bensì in una posizione piana lontana da fonti di calore eccessive. È possibile stirarlo ad una temperatura non superiore ai 110 gradi. Non è possibile candeggiarlo ma è possibile utilizzare tutti i solventi eccezione fatta il tetracloretilene. Analizziamo adesso quelle che sono le varianti di colore disponibili, una più bella dell'altra. Questa che vedete qui è la variante cipolla che come potete vedere ben sviluppata sul nostro telino perfettamente sfumata. Questa invece è la variante grigia appunto perfettamente sviluppata in tutte le sue sfumature dal più chiaro al più scuro e messa in risalto dal nostro lurex. Eccolo qui la variante grigio. Questa invece è la variante sabbia quindi con un perfetto beige messo in risalto dal lurex dorato e perfettamente sviluppata sul nostro telino in tutte le sue stupende sfumature. E concludiamo con una vera chicca la variante jeans con tutte le stupende sfumature del blu messe in risalto dall' lurex color argento che potete vedere sviluppati qui. Eccole qui tutte le sfumature del blu. LED lux. Soffermiamoci un attimo su tre punti cardini di questo filato. Struttura leggerissima, gocce delicate e preziose di lurex e 100% made in Italy in esclusiva per Tessiland. Con il LED lux potrete senz'altro realizzare delle creazioni uniche. Ha solo quattro varianti di colore è vero ma riusciranno ad accontentare davvero chiunque dai gusti un po' più giovanili a quelli un po' più classici. Potreste infatti realizzare pensateci dei gilet più corti o più lunghi da utilizzare magari su dei camicioni. O ancora un giacchino corto per impreziosire anche il look più casual senza ovviamente tralasciare anche magari un classico cardigan da impreziosire con una cintura. O pensateci anche ad una t-shirt o un vestito monospalla che quest'anno va tanto di moda. Non vi resta quindi che acquistare questo filato e divertirvi. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo come sempre di iscrivervi sul nostro canale youtube e di attivare la campanella. Al prossimo articolo ciao!